Il mio nome è Mark Hume e sono tuo padre. Come avrai immaginato? Ho trovato questo lato il giorno. Immagino sia il biglietto con il quale vorresti andartene. Ridamolo! Subito! Non provarci! So cosa stai pensando, ma Roy... Roy potrebbe essere in pericolo! Sì, no, in, la, un, la... E lui chi ha? E lui chi ha?